Ciao a tutti, ciao a tutti e benvenuti. Il giorno dopo il rinnovo ufficiale scattato e maturato in maniera molto veloce nella giornata di ieri da parte di Zlatan Ibrahimovic, che è stato un po' un segnale forte. Nei grandi club, con la straordinaria attenzione e fuoco di fila di dichiarazioni, di social, di fari accesi dopo una sconfitta, è molto importante dare subito un segnale forte. Certo, Milan non è che ha fatto la firma ufficiale del rinnovo del contratto di Zlatan per coprire la sconfitta con i Sassuoli il giorno prima, evidentemente non è quello che è accaduto e non è quello che sto dicendo. Però uscire dall'angolo di malumore per una sconfitta rilevante come quella con il Sassuolo e assaporare aria di futuro e di concentrazione è molto importante e certamente Zlatan Ibrahimovic è connaturato a questa sensazione, a questa atmosfera di concentrazione, di intensità, di mentalità. Del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e di tutte le sue dichiarazioni che trovate fin dalla metà di questo pomeriggio in poi su Milan TV, sull'app ufficiale del Milan, sul canale YouTube del Milan, naturalmente su tutti i mezzi digitali ufficiali del Milan si parla a 360 gradi, oggi la notizia ovunque è questa. Grandi approfondimenti anche su OneFootball che sostiene l'attività di questo canale YouTube, OneFootball presenta sempre notizie, curiosità, grandi approfondimenti sul calcio, OneFootball ha un'app che potete scaricare in maniera assolutamente gratuita dalla descrizione di questo video e che in maniera assolutamente gratuita vi propone anche di assistere a partite a livello internazionale, eventi live e quant'altro, è l'app di OneFootball appunto, è a vostra disposizione. E allora volevo raccontarvi questa serata, questo evento con Zlatan Ibrahimovic che credo lo vedrete poi nell'intervista integrale che vi sarà proposta su tutti i mezzi ufficiali del Milan e Milan TV, non aveva mai fatto un'intervista del genere. Sia ben chiaro, in questi casi non conta chi fa l'intervista, intervista che in ogni caso è stata preparata e studiata in equip, in gruppo, dalla Milan Media House, dalla direzione comunicazione del Milan con Pierdonato Vercellone in prima fila. Naturalmente poi a chi materialmente, a livello di manovalanza fa praticamente l'intervista, resta certo il contatto umano, la prima occhiata, la prima impressione epidermica dell'intervistato. Vi devo dire che ieri Zlatan Ibrahimovic così non l'avevo mai visto. È vero che nei mesi scorsi c'è stata un'intervista molto importante fatta a Milanello camminando sui campi con Massimo Ambrosini, ma è stato un engagement diverso, è stata una situazione televisiva diversa. Erano due compagni di squadra che alternavano domande abbattute e che naturalmente in qualche caso, come sempre accade in questi casi, è diventata un po' autoreferenziale, ricreando il clima da spogliatoio che hanno vissuto da compagni di squadra anni e anni prima. Ieri invece io ho visto personalmente uno Zlatan diverso, uno Zlatan che in Italia così non avevo mai visto, uno Zlatan da cammino acceso, uno Zlatan che racconta, che si apre, che confessa, che spiega che non aveva mai fretta di chiudere velocemente una sola risposta, ma aveva voglia di aprirsi, aveva voglia di raccontare. E anche alla fine dell'intervista ci sono stati gli unici momenti in cui Zlatan in privato lasciava cadere il discorso era quando si parlava dei tifosi. No, questa cosa dei tifosi no, mi mancano troppo. È stato veramente il mantra della serata, credetemi. Anche a telecamere spente è stato il mantra della serata di Ibra, i tifosi e gli stadi vuoti. Una cosa che ha in testa in maniera incredibile. È stata un'intervista fatta con le parole, ma soprattutto con il cuore. Di Zlatan si ha questa immagine costruita all'esterno, lo Zlatan che certamente esagera con Lukaku che a sua volta aveva esagerato, lo Zlatan che esagera con l'arbitro Maresca che a sua volta l'aveva innervosito. Però c'è questa immagine burbera, un po' ampia, un po' megalomane che è stato appiccicato addosso a Zlatan Ibrahimovic. Che ieri era un ragazzo di 39 anni che ha aperto il suo cuore ai tifosi del Milan. Ed era molto contento di quello che raccontava, delle cose di cui parlava. È stata un'intervista molto introspettiva, ha parlato sia alla telecamera, sia al gruppo di lavoro che lo ha intervistato, ma soprattutto in qualche passaggio importante l'intervista a se stesso. So che qualcuno di voi sta pensando che Sumas la cava parlando di Ibrahimovic senza parlare del Sassuolo e della lotta Champions. Il Sassuolo è alle nostre spalle ragazzi. Il Sassuolo è stato due giorni fa e noi dobbiamo pensare alle prossime sei partite. La partita col Sassuolo è stata un po' il simbolo di questo nostro cammino, di questo nostro percorso del girone di ritorno, che non è un percorso lineare come quello del girone d'andata. Il nostro è un percorso nel 2021 un po' diverso da quello del 2020. E come per tutto il 2020 abbiamo avuto un andamento straordinario, che è stato poco elogiato, nel 2021 abbiamo un andamento diverso che invece viene molto criticato. E va bene, con questo abbiamo la possibilità evidentemente di fare i conti. Vorrei sgombrare il campo dall'idiozia che non hanno scritto i tifosi del Milan e che non hanno scritto nemmeno i colleghi giornalisti. L'idiozia che vedo sui social da parte di qualche rosicone avversario che dice che i gol di Raspadori hanno dimostrato che Tomori è solo un fenomeno mediatico. Non abbiamo preso i gol sul duello Tomori-Raspadori, perché questo tizio, che non cito evidentemente neanche, non esiste. Non esiste al mondo di citare singole persone. Però il calcio ahimè non lo capisce. Noi abbiamo preso i gol, in quella zona dell'area di rigore poteva esserci chiunque al posto di Raspadori avrebbe fatto uguale. Tomori è lo stesso che in area di rigore salva l'Olimpico, un pallone importantissimo insieme a Tonali contro Pellegrini. Insomma non mi metto neanche a parlare di questa cosa. Noi abbiamo perso la partita perché sul piano tattico il Sassuolo l'ha cambiata e noi siamo rimasti un po' sul colpo. Questo sì. per cui la palla veniva portata su dal Sassuolo in un certo modo, veniva servita in un certo modo e il Sassuolo era messo in campo in area anche nella nostra area in un certo modo. Non ci sono errori individuali di Tomori nella vicenda. I gol del Sassuolo sono figli della partita, non di un errore individuale. Quindi sgombrerei il campo da questo, provando anche un po' di compassione nei confronti di chi sostiene tesi del genere. Adesso che cosa succede? Adesso succede che abbiamo un calendario molto duro, lo sappiamo. Anche se il calendario sapete, quando ti dicono calendario facile poi arrivano le insidie. Quando ti dicono calendario duro forse le insidie ce l'hai uguale o forse anche no. Perché quando ti dicono calendario facile se tu vinci fai il tuo. Se tu non vinci invece poi viene criticato il doppio. Adesso noi abbiamo un calendario duro in base al senso comune, in base al luogo comune. Ed è certamente così. Però non è detto che calendario duro significhi morte sportiva e calcistica sicura. Calendario duro devi saperlo affrontare. Ora noi avevamo in mano i tre punti col Sassuolo. I tre punti col Sassuolo se ne sono andati. Bisogna andarseli a riprendere. Bisogna andarseli a riprendere in una delle tre durissime partite che ci aspettano. A Roma con la Lazio, a Torino con la Juve e a Bergamo con la Taranto. È in una di queste tre partite che devi andarti a riprendere i punti persi col Sassuolo. Quindi dal punto di vista aritmetico di classifica non si scappa. Ieri sempre a telecamere spenti ho percepito la cura con cui Zlatan non gli ho chiesto se gioca o no con la Lazio. Perché non è questo il tema. Quando ce li hai lì poi i giocatori non diventa i campioni, le persone del calcio non diventa più questo è il tema. Diventa altro. Ho percepito, e me lo ha detto Zlatan Ibrahimovic, la cura con cui si sta occupando del suo polpaccio. Per evitare, lui è già concentrato sul fatto a parte che non è una cosa grossa. Poi se davvero non dovesse giocare con la Lazio, secondo me col Benevento ci sarà uguale. Certo è che noi ne abbiamo bisogno già con la Lazio. Su questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio che la gestione del prossimo contratto da parte del Milan e di Zlatan sarà più calcistica. Io penso che questo contratto poi adesso arrivo al punto del suo polpaccio. Questo contratto che ha fatto Zlatan è il migliore dei tre che ha fatto col nuovo Milan a partire dal gennaio 2020. Perché il primo lo fa per venire a vedere cosa succede. Lui stesso quando arriva a gennaio 2020 in Italia si dimostra carico e determinato. Però anche lui voleva capire se dopo l'infortunio e l'allegamento crociato col Manchester United era ancora da corsa in un campionato ruvido, duro, tosto come quello italiano. E quindi è stato diciamo un primo approccio. Poi lui era entrato in quel mood estivo, il Milan, che cosa succede, il contratto pioli non pioli dove va la società per cui ha rinnovato ad agosto e ha rinnovato dopo due mesi di stacco. E quindi quando poi hai lo stacco e rinnovi c'è stato lo stacco e lo stacco te lo porti un po' dietro. E il contratto di quest'anno e la stagione di quest'anno è stata figlia un po' di quello stacco. Invece adesso Zlatan sa già adesso che deve programmarsi di qui a quando scadrà il contratto per essere sempre al top dal punto di vista calcistico e sempre al top dal punto di vista della resa e della presenza in campo. E quindi questo è molto importante sul polpaccio che si sta già preparando a fare in modo che a livello strutturale porti sempre meno peso sul polpaccio per non avere più questo tipo di problemi e questo è già indice di un atteggiamento molto importante. Ciao a tutti.